Ora riposi in un sonno profondo, sei calmo, sei rilassato dalla testa ai piedi, non c'è tensione, non c'è stress, sei in un perfetto equilibrio fisico e mentale. Ok, vediamo che ho capito bene, tu torni dopo dieci anni e mi dici che non ricordi niente. Adesso so che sono dieci anni. Nove anni e mezzo per la principia e non un ricordo, no, niente di niente. Niente. E come sei arrivato fino a qui? Che abbiamo? Emensi Lovovic, 32 anni, trovato. Si fa un anno e tre mesi sempre con d'azzardo e aggressione a pubblico ufficiale. Una volta fuori si mette in affari con il resto. C'è quello che cerchiamo di scoprire. Cazzo, non fare cazzate, adesso. Zitta. Sta zitta. Sei un sbirro? Perché mi segui? Tranquillo, calmo. Metti a terra la pistola. Mettila giù. Non è successo niente. Perché mi segui? Io posso aiutarti. Posso aiutarti?